Due sedie vuote, un anfiteatro pieno. A distanza di pochi minuti e di pochi chilometri, due scenari totalmente diversi. A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per il rinnovo dei consigli comunali, che coincide con il voto per le europee, da Diamante e Belvedere arrivano immagini diverse, per certi versi opposte. Le sedie vuote sono quelle che il movimento per una Diamante migliore sta sfoggiando da diverso tempo, da quando cioè ha invitato gli altri due candidati a confrontarsi in pubblico sui programmi elettorali. L'anfiteatro pieno è quello di Belvedere, dove ben cinque candidati alla carica di primo cittadino si sono affrontati davanti alla popolazione che ha risposto in massa. Mentre a Belvedere, Raffo, Carrozzino, Granata, Bellanza e Ugolino si sfidano in maniera pulita pur senza risparmiarsi stoccatine e frecciate, a Diamante e Cauderuccio si lancia in un provocatorio faccia a faccia immaginario passando in rassegna i programmi delle liste avversarie, ponendo domande agli altri candidati a sindaco e analizzando il programma della sua lista. Una situazione certamente sui generis, folcloristica per alcuni versi, ma che allo stesso tempo rappresenta uno stato di cose. Probabilmente a Diamante si continuerà con il botte e risposta indifferita, da un comizio all'altro, da un balcone all'altro, da una piazza all'altra, cosa che accadrà ovviamente anche a Belvedere, dove però ieri sera il Paese, tutto il Paese, ha vissuto un momento di democrazia e di maturità sociale e politica.